ok ci siamo telecamera fissata si torna indietro ma perchè c'è la luce del plan? tenili fermo il manubrio si torna indietro uno due vai ok no guarda che cazzo ragazzi mi sta cadendo vai uno alza l'enrico un po' vai no bisogna Enrico mi cade non riesca a drittarne la con l'anubrio a spostarla alla mia sinistra? si ok vai ancora ok fermi qui no prendi un cavolo no no non puoi così ma sei impattito c'è la cosa che tocca Enrico lasciala andare stai tranquillo non cade lasciala proprio ok allora tiriamola qui pronti? vai vai è meglio quella di Max come che dovrei messa tu Max adesso secondo me dovresti attendere stai lì qui sopra stai lì Max ma andrei in marcia figlia in marcia la stavano mostrando Max vai qui sopra no non ce la faccio dai stai lì ma ha fatto un'altra ok spegni 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 ah e la prima è salita aspetta è tolgo carico le prossime volte prendi un passaggio prendi almeno quelle più semplici di su ma non so se è molto più semplice sì che è più semplice non so non so niente è il passaggio che abbiamo fatto in discesa guardate la ditta no no ma con quello sto dicendo dai e il 525 è su è tutta così è tutta così il gigante Crissino ok ok parcheggiala Max dico a che gradino che è uno è salito di l'altro lo tentiamo di qui e io aspetta aspetta